Botta e risposta tra Mauro Febo, assessore regionale all'agricoltura, e Danio Mastrangioli, capogruppo del PD alla provincia dell'Aquila. Al centro della discussione, l'assegnazione delle risorse AIGAL, gruppi di azione locale della provincia dell'Aquila. A inizio settimana Mastrangioli aveva presentato un ordine del giorno al Consiglio Provinciale per richiedere l'erogazione delle risorse spettanti AIGAL della provincia dell'Aquila, impegnando così il Presidente e l'Aggiunta Provinciale ad intraprendere le iniziative utili ad erogare AIGAL della provincia aquilana con attenzione particolare alle aziende agricole. Infatti, secondo quanto dichiarato da Mastrangioli, le risorse per il comparto agricolo sono state prima modificate e ridotte e, in un secondo tempo, quasi dimezzate. L'assessore Mauro Febo aveva risposto al capogruppo invitandolo ad informarsi bene prima di criticare e ad attivarsi fattivamente affinché le risorse pubbliche a disposizione dei GAL venissero spese bene, soprattutto per un comparto come quello agricolo che si occupa delle aree interne. Successivamente aveva aggiunto il programma di sviluppo rurale, nonostante il parere contrario di Bruxelles, aveva chiesto di mettere a disposizione dell'approccio leader, che comprende i gruppi di azione locale, Asse 4, anche fondi destinati all'Asse 3, qualità della vita in ambiente rurale e diversificazione dell'economia rurale, in modo da realizzare interventi ancora più incisivi per lo sviluppo delle aree interne. Ad oggi, però, nell'ambito del PSR 2007-2013, nessuna misura è stata attivata e, di conseguenza, è stata eliminata questa interessante possibilità. Appare dunque inutile evidenziare il perché della nostra decisione, considerando che sono passati ben 5 anni. Puntuale la risposta del capogruppo Mastrangioli, che apostrofa l'assessore, invitandolo ad abbandonare le parole per passare ai fatti. La nota dell'assessore, scrive Ennio Mastrangioli in una nota, nella sostanza nulla chiarisce e niente di concreto dimostra. Con il nostro ordine del giorno presentato al Consiglio provinciale, non abbiamo fatto altro che chiedere alla provincia di sollecitare la regione a derogare i fondi, quelli rimasti dopo il quasi dimezzamento ai GAL del nostro territorio. Ciò in considerazione del fatto che è trascorso oltre un anno e mezzo dall'approvazione dei piani di sviluppo locale e che la programmazione europea 2007-2013 è quasi al termine, senza che si sia speso un euro. All'invito dell'assessore ad informarsi meglio risponde il capogruppo. Caro assessore, lo abbiamo fatto, ci siamo informati e abbiamo verificato che nessun euro è stato realmente versato nelle casse dei GAL della provincia dell'Aquila. Se così non fosse, la invitiamo a fornirci gli estremi dell'atto amministrativo di assegnazione delle risorse ai GAL e del conto bancario dove sono state versate. Se avrà ragione, gliele daremo atto con il nostro più fervido applauso e provvederemo a richiamare alle loro responsabilità gli organismi dirigenti dei GAL. È da troppi anni, conclude Mastrangioli, che ci dicono che per la Valle Peligna ci sono a disposizione milioni di euro dai FAS, dai leader, dal Masterplan e chi più ne ha più ne metta, ma ad oggi nessun euro è realmente a disposizione del territorio.